Chiedo ai cittadini di collaborare perché il nostro obiettivo è uno solo, quello di poter vivere un Natale quanto più normale possibile, quello di non chiudere le attività economiche, per questo però bisognerà rispettare. Green Pass, mascherine, distanze e da lunedì i controlli saranno capillari e super rigorosi. Il conto alla rovescia può cominciare. Dalle 10 di questo sabato mattina torna l'obbligo di mascherine all'aperto a Firenze. La norma, contenuta nell'ordinanza acquisti sicuri firmata dal sindaco Nardella, non riguarda indistintamente l'intera città, ma tutti i luoghi a maggiore rischio e assembramento, non solo del centro storico. L'obbligo varrà in 18 giornate fino alla fine dell'anno, dalle 10 alle 22. La decisione di Palazzo Vecchio segue temporalmente quella del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinetti sull'obbligo di mascherine all'aperto per i visitatori del villaggio di Natale, mentre ha anticipato il pronunciamento del primo cittadino di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, che ha reintrodotto le mascherine all'aperto in passeggiata nelle vie del centro, sempre a partire da questo sabato. Nel resto della Toscana, per ora i sindaci, si muovono in ordine spazio. Quello di Prato, Matteo Biffoni, ha annunciato che l'ordinanza è pronta, ma non ha detto quando potrebbe entrare in vigore. Quello di Livorno Luca Salvetti e quello di Pisa Michele Conti sono d'accordo, superando il campanino. Nel sollecitare decisioni in merito da parte del governo. Intanto le mascherine tornano d'obbligo da questo sabato anche alla Betone, che apre gli impianti dando inizio ufficiale alla stagione invernale. Per quanto riguarda invece il Green Pass, i gestori spiegano che sarà obbligatorio solo al chiuso, quindi per gli impianti con la cabina, mentre non servirà per le seggiovie. Tutto questo aspettando lunedì l'entrata in vigore del Super Green Pass, che richiederà un notevole aumento dei controlli nelle città. C'è un grande sforzo da parte di tutti i corpi di polizia, tutti a livello eccezionale, con i contingenti di cui disponiamo. A Firenze i controlli per il Super Green Pass si concentreranno su servizi di ristorazione, alberghi e strutture ricettive, spettacoli aperti al pubblico, piscine, palestre, centri culturali e attività di sale gioco. Questo quanto deciso nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza tenutosi nelle ultime ore.